Si pensa che il principe Carlo, 72 anni, voglia ridurre lo studio quando erediterà il trono dalla regina Elisabetta II, 95 anni. Mentre la regina ha sempre mantenuto il principe Harry, 36 anni, e Meghan Markle, 39, rimangono membri molto amati di lei famiglia nonostante i drammi reali, Charles potrebbe scegliere di fare ciò che sua madre non vuole e privarli dei loro titoli di duca e duchessa del Sussex e degli stili di sua altezza reale. Quello che Charles deciderà di fare nei confronti dei Sussex quando sarà re-è una questione di speculazione. Ma secondo un costituzionalista, avrà il potere di rendere suo figlio semplicemente Henry, in un colpo solo. Discutendo del futuro dei titoli di Meghan e Harry, l'accademico I.I. McMartin ha dichiarato a Express.co.uk. Per quanto riguarda stili e titoli, la regina è libera di spogliare chiunque di qualunque titolo reale e nobiltà. Quando il principe Carlo eredita il trono, eredita anche lo stesso diritto. L'esperto ha aggiunto. Di conseguenza, per un colpo, sia per mano di Elisabetta II, sia per un futuro re Carlo, sare il principe Enrico, duca di Sussex. Conte di Dumbarton e Barone Kilkil, potrebbe presto ritrovarsi a diventare semplice e ordinario. Il signor Henry Charles Albert David Mountbatten Windsor. Harry e Meghan hanno mantenuto i loro titoli nonostante si siano dimessi da reali senior lo scorso anno, ma le loro recenti attività commerciali hanno spinto i critici a chiedere che venissero spogliati. Apparentemente hanno ignorato la loro promessa alla regina di non usare il loro status reale in relazione al loro lavoro dopo la Magixit e hanno continuato a scambiare i loro titoli. Il libro per bambini di Meghan, The Bench, è stato pubblicato sotto Meghan, Duchess of Sussex, mentre un recente comunicato stampa sul prossimo libro di memorie di Harry lo chiamava anche il duca del Sussex. Non solo la coppia ha usato il proprio status reale a proprio vantaggio, ma lo ha fatto sparando colpi all'istituto. Nella loro intervista di marzo con Oprah Winfrey, i Sussex hanno violentato lo studio e fatto accuse schiaccianti contro la famiglia reale, inclusa una di razzismo.